Ciao a tutti, qui è Fogon Collac22 Oggi giochiamo al lancio del giavellotto Ho scelto Donkey Kong Primo tentativo Andai vai vai Il mio record è 92.578 Uh, nuovo record Nuovo record Poi vi dirò un'altra cosa Nuovo record 93.807 Si vede, si si vede Si Secondo tentativo Vai 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 Fallo Com'è possibile? Ho fatto fallo Vabbè, sono sempre primo Sono al minuto 1 Al minuto 30 Ho fatto un nuovo record Il secondo fallo che faccio? Eh, sono sempre primo Sto partito Sto partito ho fatto due falli Sempre primo lo stai Allora Cerimonia Come sempre Oh 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 Bravo Complimenti Knuckles Oh 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 Vi propongo Vi propongo di Superare il mio record Nel video di risposta Ho fatto un video di risposta Dove usate la V La vostra Wii E dovrete superare il mio record Nel lancio del giavellotto Che è di Non me lo ricordo 93 Aspettate, facciamo il secondo La seconda gara È di 93.807 Vabbè, facciamo No Facciamo questa partita Dai, nuovo record Dai, nuovo record Per favore Nuovo record Sì Anzi, dovrete superare 90 Dovrete superare Nel video di risposta Dovrete superare 96.837 metri 96.837 L'ho fatto Vi ho fatto vedere Vi ho fatto vedere Faccio questo concorso così tanto per fare qualcosa, no? Non si vince niente, è libero E La chiusura la farò La dirò io Quando Nel prossimo video Ciao da Poco Collec 22